5 cose che devi sapere su Artemisia Gentileschi. 1. È stata la prima donna ad essere ammessa all'Accademia di Firenze. 2. Ha creato molte delle sue famose opere prima dei 25 anni. 3. Era molto amica di Galileo Galilei. 4. I suoi lavori diventano famosi negli anni 70 grazie ai movimenti femministi. 5. Le sue opere raccontano spesso di una violenza subita a 17 anni.